Grazie, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del tutorial di Assassin's Creed Valhalla. Oggi siamo alle prese col mistero dell'ovulo malefico dell'SX, che si trova esattamente qui, all'estremo nord della regione, al nord dei due punti di osservazione. Vediamo come risolvere il mistero. Osserva i segni e accenni i bracieri giusti per rifarcare la porta. Allora, sono uno, due, tre, quattro, cinque bracieri, sei bracieri e quella è la porta. Allora ragazzi, lì c'è quello con la barba con uno scudo, là c'è la signora con lo stesso scudo, la signora con uno scudo con il disegno dentro. Quello con la barba lunga, che è diverso da quello, con uno scudo diverso. Quello con la barba lunga con il disegno dentro. E poi la signora con l'altro scudo. Quindi sono tre signore e due con la barba lunga e uno con la barba corta. Proviamo a accendere solamente gli scudi delle signore. Uno, due E tre Ed ecco svelato il mistero dell'ovulo malevico delle sexe. Bevi intorno al fuoco, pattina sul ghiaccio, compra un cavallo magro e una spada temprata. Fa tutto questo e codine. Ragazzi, questo è quanto per l'ovulo malevico delle sexe. Se il video vi è piaciuto non dovete sottoscrivervi o lasciare un commento, però più o meno mettete un like. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Ciao!